La Regione garantisce la massima collaborazione ai carabinieri insieme alla sua agenzia LARPAV fornendo tutti i dati e supporto tecnico scientifico con l'obiettivo insieme a loro quindi dare una mano a loro per contrastare i fenomeni che riguardano gli illeciti sui rifiuti. La preoccupazione ovviamente è massima perché dove ci sono soldi, dove girano soldi c'è l'interesse della malavita organizzata e nell'ambito dei rifiuti di soldi ne girano. In passato venivano accumulati dalla malavita i rifiuti all'interno di capannoni che poi venivano dati alle fiamme oggi non si segue più questa modalità, se ne seguono altre che quello prevalente è quello di portare i rifiuti all'estero e quindi ancora una volta la massima collaborazione con i carabinieri per contrastare ogni tipo di illecito che riguarda i rifiuti.